Salone del Mobile 2017, grande novità, collaborazione Ferrari Poltrona Frau, Flavio Manzoni, responsabile design di Ferrari, come è nata questa collaborazione? Ma è nata un po' quasi per caso, però in realtà con l'idea di celebrare un anno molto importante, un evento molto importante che è il settantesimo anniversario della nascita della Ferrari. Così si è deciso di dare vita a questo progetto in collaborazione con Poltrona Frau, che ha permesso di realizzare un oggetto a mio avviso molto particolare, che dice qualcosa di nuovo sicuramente nel mondo del living e degli ambienti di lavoro, perché proprio rappresenta la fusione tra due visioni, tra due culture. Quindi si unisce un po' la bellezza, la cura artigianale, alla conoscenza tecnica e tecnologica della Ferrari che ha portato a concepire questo prodotto. Cockpit, il nome del prodotto, è la prima collaborazione extra automotive, però la storia nelle collaborazioni dell'automotive tra voi e Frau è molto importante. Abbiamo una collaborazione da decenni negli interni delle nostre supercar, perché la pelle e lo sviluppo della componentistica interna la facciamo con Poltrona Frau. Quindi è stato quasi naturale poi passare a ideare, a concepire questo oggetto. C'è stato un grossissimo entusiasmo da parte dei diversi componenti del team del certo stile Ferrari, a dimostrazione del fatto che a volte ci sono dei link, dei collegamenti tra discipline molto forti, per cui questo travaso di conoscenze, questo travaso di entusiasmi diventa naturale, diventa fonte anche, come dire, di piacere proprio nella ricerca. Il design dell'automotive è un design che segue le proprie linee, dovute anche a ragioni ovviamente tecniche, ma quanto guardate il mondo del design di arredo? Io sono sempre stato un fautore di un approccio multidisciplinare al progetto, per cui guai a guardare solamente al campo di applicazione, bisogna sempre aprire la mente e gli orizzonti a più settori, quindi sicuramente il mondo dell'interior design è molto importante, il mondo dell'architettura, dell'arte, sono tutti mondi che servono ad avere delle intuizioni a volte non così scontate, che possono determinare un cambiamento di direzione o un approccio molto molto originale. Stilisticamente come nasce il cockpit? Nasce da una contaminazione dei linguaggi automobilistici, quelli che noi mettiamo all'interno delle nostre auto, che però trasportato su questo oggetto ha tutto un suo fascino, una sua originalità, è pensata come una scocca autoportante, che si può avere sia in carbonio sia in halutex, un materiale molto bello che usiamo nelle nostre Ferrari, non consueto nel mondo dell'arrodamento, che ha reso possibile questo disegno così leggero dell'oggetto. Gli spessori sono sottilissimi, la scocca è autoportante ed è pensata in modo modulare, quindi è possibile declinarla in modi diversi, dalla versione President all'Executive che vediamo qua, che è una sede apprettamente, non so da ammietti di lavoro, ma anche da Meeting Room. Ed è caratterizzata da questo ritmo, questa scansione tra pieni e vuoti, che è tipica dei sedili Ferrari. La sede riprende un pattern che ritroviamo in tante Ferrari, in particolar modo lo possiamo ritrovare nella GTC4 Lusso, che è una delle ultime natte del cavallino.